Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Kids e oggi andremo a giocare la storia di Nooblet, ovvero il 5 stelle che è da poco uscito a Fontaine e l'ultima volta abbiamo giocato alle Archon Quest, mi raccomando andatevi a riprendere il video so che è un po' lunghetto, però ho cercato di tagliare tutte le parti noiose e di lasciare solamente i dialoghi prima di andare a parlare con Nooblet vi ricordo però di lasciare like, iscrivervi, attivare la campanellina se vi va lasciare un commentino e di seguire, cioè di andare a vedere in descrizione tutti i miei social e la lista Amazon grazie per chi farà tutte queste cose cominciamo allora entriamo andiamo a vedere che cosa c'è da fare io non ho ancora fatto le altre due quest se vi vale giochiamo insieme se no non c'è problema fatemi sapere anche perché quelle saranno un po' noiosette ve lo dico se no vi faremo un sunto anzi io e Nonna abbiamo fatto un video teorie andatevelo a rivedere perché presto ne arriverà un altro ve lo dico già e si stiamo un pochettino indietro per quanto riguarda la playlist delle cose della storia di Kenshin ovvero la storia di Teripat dovrebbe arrivare la storyline di Linei il riassunto delle Arcon Quest e la storia di Nublet appena Nonna si sente un po' meglio le facciamo ok capito bene messo il Nublet è sicuro? volete occupare personalmente del caso? aspettate che metto la mia certamente ma perché teoricamente casi simile è meglio affidare le agenti della Green ok siamo arrivati aiutatemi a convincere il giudice supremo c'è un caso di cui vuole investigare tutto da solo è assolutamente inaudito possiamo davvero permettergli di andare in giro come detective privato? grazie per la sua premura ma non ho alcun piano del genere al momento chiedo scusa di aver risposto dopo seriamente alla tua domanda ma pensavo che fosse in maniera eronica ok ho capito la mia scrivania per spiegare i motivi della mia assenza e niente probabilmente non interessano affari ufficiali come questo va bene va bene ok abbiamo questo caso nuovo da risolvere vediamo un po' che cosa ci dice cos'è di tanto spesare esatto ma mi hanno mi ha dichiarato mi ha richiamato scusate mi ha lamentato il fine di giardino quindi devo eliminare tutti i rischi in avanti ok come on stop being so secretive we still have noise it is not my intention to keep you in the dark but I need some time to revisit the long story short a little more than 400 years ago poco più di 400 anni fa sono stato nominato i dukex di yundex scusatemi di fontaine ha iniziato una serie di riforme suzionali oh no oh no Oh no Oh no Oh Ok 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 Certo, perché abbiamo scoperto l'ultima volta che lui era indrago Ah, è letteralmente un drago foglia l'acqua Eeeh, guarda come c'è un singa Comunque è molto bello questo personaggio, eh Devo dire che mi fa più bene Questa è un'altra parte Arriviamo Filiacchi Filiacchi Ma boah raga non li so dire i nomi Cioè io ci provo ogni volta però Non si riesco a mi dispiare Sono un po' Ogni volta faccio dei film Comunque posso dire che dopo Lio è una delle città che mi piace tanto Vabbè Lio è Certo non è una di queste grandi città Però diciamo che tanti personaggi che mi piacciono sono di lì Quindi è un po' come fosse casa mia Da su via Un po' così Però sinceramente Mi piace Particolarmente anche Fontaine Anzi anche più di Nazuma Tante volte Nazuma è un po' naditata in culo Posso dire Si può dire Eccolo Eccolo Ok Ho scritto qualcosa riguardo al volermi prendere Così ho pensato di aver scritto qualcuno Ma che cazzo Sembrava che io avevo incontrato Questa è un po' Questa è un po' Questa è un po' Questa è un po' Sono molto carina E poi ho visto nella realtà come sono Dovrebbero essere E sinceramente mi fa paura Sta roba si mangia la gente Questa è un po' di più Ok 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 Dove dobbiamo arrivare? Chiaro Chi è la dietro? Chi è la dietro? È Charlotte? Che cosa è un po' di più Che cosa è un po' di più? È un po' di più Che cosa è un po' di più Che cosa è un po' di più Che cosa è un po' di più Oddio che carino Che cosa è un po' di più Che cosa è un po' di più Ok Ok Non so niente È un po' di più oh of course i'll make sure to turn in my manuscript to him for review i have my principles and i'd never publish an article without the consent of all parties involved Oh manu... Ehm... 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 Chissà se sarà evocabile lei Credo che potrebbe essere un 4 stelle Credo Un po' come dovrebbe essere Charlotte Forse è un 4 stelle Probabilmente Che dovrebbero arrivare Con la prossima pack Insieme a Furina Vediamo un po' Io sto tenendo tutte le prime zone che posso da parte Certo Ora non ho... Dovrei vincere il 50 e 50 Magari Speriamo Allora Devo prendere Andare qua Ma scusa Non posso... Eh infatti Dev' arrivarci da qui Ecco Facciamo prima Andiamo un po' Se ha scoperto qualcosa Se ha scoperto qualcosa Peccato che non esistono queste cose Dei 4 e 5 stelle E una foto che poi ti rimane Sarebbe stato carina Ok 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 Ebbè Ok Ok quindi dovremmo controllare anche lui Allora Ma come sta bellino Ma che bellino A proposito del caso di corruzione C'è stato un grave caso di corruzione La battuglia speciale di sicurezza E sorveglianza Ha indagato sul caso Tutti i sospettati Coinvolti sono stati arrestati I sospettati hanno confessato i propri reati A proposito di spina di rosso Callas dopo il capo della spina di rosso E' stato battuto a duello Ed è morto a causa di lesioni gravi La difesa del suo onore è giunta alla fine Nel caso del processo L'imputato non ha espresso alcuna obiezione Vabbè Nel mio letto Ha rimandato il giudizio su questo caso Alcuni dettagli in merito Sono ancora sotto esame Proposto di L'imputato Ah quello era quello delle caverne Cioè sotto Confessato i suoi crimini E' stato dichiarato colpevole Sarà esiliato Al fronte Dove sosconderà la sua pena Durante il processo Non è rimasto a lungo in silenzio A proposito Della proposta del consiglio di Riapp Ripart Sì vabbè raga Veramente Rappresentanza Il consiglio di rappresentanza Ha prestato una richiesta Per collaborare con lo spettro Mere Non lo so come si legge Su specifici eventi pubblici A base delle ricerche Il consiglio è convinto Che le melusine possano rendere I tali Eventi più popolari Non ha ancora fornito una risposta A ciò che tuttavia Proibito Alle melusine Di prendere parte All'attività Scusatemi comunque Se ogni stanza mi perdo A legge Però Mi capita A proposito Del caso di Contrabbando Il caso di contrabbando E' stato risolto Grazie all'attenzione Congiunta Tra la La Grade E lo spettro Vabbè Come si chiama lui I principali responsabili Sono stati Condannati In base alla gravità Dei loro crimini Per visionare L'elenco dei nomi Si prega Di fare riferimento Alla Alla Non sono mai messo Mai messo A contarlo E la memoria Non mi inganno Non è averti Seduto Ad almeno Cento I documenti Che vedete Qui Non sono Una piccola Madonna Questo Terrà Cinquanta Roba Di casi Cioè Tutto Scaffalature Roma Ok E facciamo Una pausa Andiamo Buur 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 E' un po' di più Sì, è bezzato. Ma si beve l'acqua. Ma mirogainzza! ственno ma è bellando assi Scalda il cuore Quello del villaggio Di Liyue Questa dice che Quindi Struggendo Ma quella Riede la consistenza blasta Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Che mi sconcerta Più di tutte Riguarda la mia esistenza In buona sostanza Non ho idea Del perché Io sono nato Con questo esempio Non so dove E non so dove la mia Lunga vita Vorrà Quando sono venuto al mondo Ho perduto i ricordi Ad esempio Quelli che ricordavo Del mare Il mortale Tutto ciò Di cui ho memoria È che io Sono collegato ad esso Ma non ho idea Di quale sia La natura Di tale collegamento I draghi elementari Delle altre nazioni Potrebbero riuscire A prendere le risposte Tuttavia Sono sparsi Per ogni nazione Di derivata E andare A incontrarli Potrebbe comportare I rischi Imprevedibili Fongo la strada Ho scoperto una cosa Le mie emozioni risultano facilmente Che risuonano Facilmente Con quelle degli altri Anche se ho una minima idea Di cosa vogliono Immagino le similità Tra i miei umani Esiste qualche similità Per quanto minima Se osserva attentamente I loro comportamenti Forse un giorno Riuscirò a comprendere Il senso della mia esistenza Hai già fatto progressi in merito? Ma i grossi Non è facile E può quantificare In quanto è straneo Non mi capita molto spesso E posso interagire Con gli altri individui In maniera profonda Ecco perché Sono grado Di questa conversazione Un'opportunità In genere Estremamente rare Peccato Non avere tempo Ora che abbiamo Un'indagine Di cui occuparci Non è possibile Continuare a leggere Questi documenti Malgrado Abbiare Letto La gran parte Dei documenti Non è Non sono riuscita A trovare nulla Di utile Ma già che poco Fa parlavamo Di acqua Mi veniva in mente Una cosa La ponte 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 Si esiste davvero Un'organizzazione Che tratta Tenta di usare Le meluzine contro di me Immagino Nutra Un profondo Resentimento Dei miei Ok Andiamo Alla fontane Di fontane Ha molto Ha molto Da ridere Sto Oh Oh Che camo Oliva Che sta succedendo? Siamo andati in paradiso Oh Siamo andati in paradiso Sei l'unile Stiamo entrando in un domenio Ah no C'è un'animazione No Ah è diventato tutto Ah sto vedendo i ricordi Quindi questo è il ponte In prima Vedi non c'è nemmeno Il cosmo Vedi era diversa prima la fontana Vediamo Vero comunque Vediamo Vero comunque A ver A ver C'è Ah era una meluzina Allì Quattro di fontane è davvero incredibile C'è un po' di scuola C'è un po' di scuola Ok Non ho mai capito il risultato della mia esistenza. Abbiamo quasi 20 anni. Abbiamo restato nella nostra città senza trovare alcune risposte. Come lui? Entro la tua confusione. In realtà, sento che io anche venivo qui per una risposta a mia domanda. E' vero? Puoi ci raccontare cosa dovremmo fare per uscire? La verità è che molte persone stavano con noi oggi, e ci hanno detto di andare in casa. Ci sono davanti ma a tutti i nostri amici. E' vero? Ci sono davanti di sono davanti. E' vero? E' vero? E' vero? E' vero? ma se vanno me iso a raggiungo che sto facendo a casa ok ok E poi è successo, vero? Vediamo. Forza Nervilat allowed them into the court of Fontaine, just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving! I won't let you say bad stuff about him! We joined the Mari Shosei Phantom and solved lots and lots of cases! Solving cases? With Nervilat in cahoots with you? You could have fabri- So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? I- I- Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Autre? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mari Shosei Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has ever- There have indeed been an increase in cases recently. Perhaps due to the shifting currents of conspiracy. And I understand your concern. Tch. Even the captain of the Security Patrol is on their side. Nervilat's new- How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. There have been rumors saying that you were born from calamity. And that you inherently- There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a- Monsieur Nervilat said that we needed to put both time and effort in. I still want to try a little harder. I don't want to try a lot of flyers last night, so I have- Give them to me. You're not gonna take them away. We'll hand them out, together. The faster we get this done. Okay. Vediamo che è successo. Si mario hanno un'altra fontana. Una fontana a fontana. Vediamo, ci sta pure numeretto. C'è un portano. Monsieur Nervilat, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Votram. Thank you for your continued dedication in the past five years. You've taken one small step- I think I'll pass. Hey, don't say that! We wouldn't have made it this- It won't be long before Melazines begin living peacefully with the humans. Just the- Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of your- Ugh, you blockhead! Don't- Hmm. Votram brings up a good point. Hmm. The trust humans have placed in you is still very fragile. Please be on your guard for the next- Yes, sir! Okay, got- Meriom. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Hmm. Are you sure we should do this? We're no match for Nervilat, even with all our powers combined. What if- Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere. Unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melazines, as the person who brought them to the court of Fontaine, Nervilat will be left with no- I guess you're right. Ugh! If he'd just left things the way they were, it never would have come to this. But he's- Ah, yeah. Turn the murderer in! And here she's a- Melazines can't be trusted! That goes for Nervilat, too! Peaceful coexistence? What a joke! Get out of the court of Fontaine and don't ever come back! But do us as a much- I don't know. I don't know. Such a- The results of the investigation are in, Captain Voltron. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are- They tricked Ms. Carol into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make M. Nervilat confess to his mistakes and yield- The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Okay, l'hane incolpada, l'hane incolpada, l'hane incolpada. Chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? This situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. And she said that she was a little culprit. That is indeed something. Captain Voltron. Captain Voltron. Should I present these results to M. Nervilat? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all- Restrict access to- Restrict access to- There's something I've never told Carol. I had a little sister named Delaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Oh. Innocent, kind. Quattro... That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. I will take responsibility for everything. La cosa si mette male, ragia. Però figa com'è sta storia, è interessante, non è noioso, ma tanti altri. Qu'è? 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 Pでしょう, può essere un problema. Oh dear... There have been no further objections. The Oratrice will now do... According to the judgment of the Oratrice Mechanique Genelise Cardinal. Cards... E perché? Ok... Ok... That sounds... Hmm... Oh... Oh... Hmm... Oh... Oh... Hmm... No... So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long. But the... Hmm... You know... It could be because... You... Anyway... Any progress with the... The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case. But it is still uncertain. We are planning to return to the Palais Mormonia to revisit some details. And I... Alright... And I'll round up the Spina di Rosula and follow up... Wait for my word. Tata! Uh... Nivlek... Do you think there'll be any problems? I have already considered that possibility and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word get... What is more important is how the case is perceived by the public. Four hundred years ago they chose to... I hope the same won't happen again. One can't believe that he has changed. It's strange. What are these... Did something happen? Let's take a look around. To sit who is at the police. Hey... How are you waiting for the crew? Even Chief Justice is investigating and... What? That's it. Who's been threatening Meluzynes? Show yourself Our enemies are lurking in the shadows And won't easily reveal themselves But no amount of hiding will keep us That's exactly what I wanted to say The guards have already begun to think about how much we owe them Everyone, please stay alert to your surroundings from now on If you see any It feels like you've been following me this whole time It's we were informed that Nope We just finished our shifts and happened to be strolling by Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about Come on, don't act tough I... All right, let's go back You shouldn't ever skip meals Especially if you have another shift sk- I heard even Nervylet's keeping an eye on the situation This is the perfect chance to get promoted We can- Seriously? Were you planning to shirk- Relax, I was just playing We've worked together for years That's more like it We should stand go- Come and fight me and- Have you heard? Even the special patrol- Shh, look Isn't that Nervylet? Huh? Looks like there's nothing to worry about Hmm This is true So... Wanna go up? No, I should stay where I am My appearance Let us stick to our plan And return to the Palais Mammonia Okay, and we're in a hurry But I want to get silly I thought it was a bit more expensive Let's go Let's go Let's go You tell us why I never do Because I still have to test that So not yet Way to go No? Cosa? 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 Ecco Cosa? Cosa? Si è presentato a noi E addirittura già hanno fatto progresso Aspetta, me ne ho dare il trasporto qua Andiamo Ah, comunque ho cambiato la lancia shao, io ho messo quella un po' meglio Nel frattempo che la trovo Non un po' Non è molto agendino Non Uressa? Sì 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 Avviso di sospensione delle altre missioni, ciò che resta nel passato Sì 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 Ok, I get it. I'll bring Dominique out. Think of it as more of a humble request. I'm here on my... Thanks for the trouble. Whoa. If Pima were you here, Grace, Pima... Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Nervilette. But enough jokes. I'll look for Dominique. Make yourselves at home. Sì, no. Please come with me to the infirmary. Ah, and watch your step. There are some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. No, oddio. Dove si passava di qua per andare in infermeria? Senti, se vuoi la... ...la scia qua, se non mi perdo. Già stavo sbagliando. Allora, vediamo un po'. Comunque nel frattemmo ne approfitto per ricordarvi di lasciare like e di sostenermi, se vi va. Anche perché questi video sono lunghissimi e ogni volta devo editarli. Giustamente. E quindi un sostegno abbastanza... Il vostro sostegno è importante, ragazzi. Sì, siamo quasi arrivati. Ok. Sì, sì. 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 Non significato? Sì. Non lo spiegavi? Hoi. La scuola... Sazza non è? Iscriviti. Non lo spiegaci. Sì. But se che non si... Adesso le vai... Sì. La scuola è... ... ... Vediamo un po' cosa ci dicono. Ok, c'è un tizzo qua. Ragazzi, un attimo che devo stoppare la registrazione, è quasi un'ora, un attimo. E raga, sono ritornato, eccomi qui. Allora... Aiutatevi a vicenda, fate tutto il possibile per promuovere la giustizia. Vedetevi al giudizio giusto. Ma chi cazzo è questo? Ma... 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 Ma che è qua? Ma veramente una conspirazione qua. Andiamo a vedere che dicono in un letto. Certo che madonna, in questo posto non ci volevo proprio dormire. Allora... Ma... 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 giustano ok ok andiamo andiamo a vedere chi è sto domingo qua domingo chi cazzo è questo andiamo un po' è il fatto che la mia senti a letter a mello a asen has already confessed so there really isn't any stop that idiot i can't believe i let me ask this another way it was your idea to who is pulling your string what you're not trying to frame me for something i haven't done it's best if you realize the gravity of your situation the chief justice i assume your previous attempt to incite unrest at the fortress of meripide has i i admit i acted on impulse i'll tell you the truth but before that you must i can do that you see we're all reasonable i only intended to do some small business at first someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum after making a few trips i was suddenly approached by the mario chaussé phantom they accused me of smuggling prohibited items and i was put on trial but i refused to accept any of that the ignorant can be rightfully absolved from guilt right well i suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods and then you decided to take revenge on the melazines over there my initial target was nervy let everyone in the fortress of meripide was declared guilty by him after all so they must more or less hold a but for some reason no one wanted to team up with me that mutual aid network in particular what did those nobodies even gain in the end i had to redirect my focus onto melazines to sell i recall that kiara was the one who confiscated my goods for inspection so i asked one of the more approachable guards to send a letter claiming that i meant to contact but the letter was in fact addressed to essa i requested that he write a threat letter to kiara and force it to resign from the am i to assume that the claims you've made are your own thoughts have you been in contact no is it true that all members involved in the smuggling scandal yes si juin please take him back to the detention center i'll deal with him later so monsieur nervy let you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate sit yes i experienced a similar incident in the past and how long ago was this in more than four hun you might be overthinking this time can change a lot of things what do you mean 400 years ago you and the melazines you brought to fontaine were the outliers and but in the present day if someone were to threaten the safety of the melazines people wouldn't just sit back and do nothing that's right we saw lots of people standing up monsieur neville let the melazines are a species you introduced to fontaine how the public treats them is all when people refuse to place their trust in melazines it was because they were still on the fence about you for almost 500 years you've conducted every trial with impartial people no longer have any reservations about you right now you're every d i am undeserving of such high compliments it isn't anything special or worthy of praise it is unnecessary to hold me in such high regard there's no need to be so modest you're no longer that outsider you were before i must say thank you for clearing my huh you're leaving and so soon too why not thank you for the offer but i know how while some are here to redeem themselves there will inevitably be those who harbor it the less time i spend here the better i pray in that case i'll have to insist please the first is about the guard who helped dominico send that ah i know the guard was indeed deployed from the palais memonia's staff however as i mentioned earlier i visited today well that makes things a lot easier hey now don't let your those from up there have a tendency to sympathize with others however down here such thoughts will put you at high i'll have a chat with the guard and remind him to take i see no great that's one thing the other thing was born from my own sense of curiosity now i've heard that yep never thought their badges looked from i noticed the small gang as well when i first took over the fortress of meripede they i've looked into their founder vautran who according to existing documentation vautran remained disciplined throughout his imprisonment in other words how he presented himself in prison was very different from his what during his trial i could sense that his feelings were complicated he appeared to be full of resentment and i believe he had a perhaps he had been putting on an act an act never let and vautran had a close relationship as superior and subordinate vautran must have known that the chief justice would make an impartial judgment thus the more resentment he displayed the clearer it would be to those present that you were upholding justice and to those who had been sitting on the fence vautran's act was a very meaningful one that's all for me does anyone else have anything to say now i don't have anything to say apart from expressing my well then let us head back that trial is something i rarely bring up in conversation but i've always felt deep regret for what happened to both carol and vautran the words he spoke in court often replay in my mind as if urging me on to do something but risley said he never resented you right isn't that a good thing i believe i now understand what he wanted to tell me i feel conflicted about those words how should i describe it surprise relief fear and regret but this blend of emotions has led me to finally understand some things i would like to hear your thoughts too what do you think of me i don't paimon agrees with everything risley says as chief justice every single one of your trials makes an impact on fontaine what do you think traveler okay what i really think is every trial you've ever judged has left its impression on you goddio i love you ma volta che faro hmm that is indeed a reasonable assumption as i said i find it difficult to express my emotions because i cannot fully understand myself but i trust your judgment since some time ago i have begun to notice the changes that have occurred upon my person these changes were not due to any specific occurrence but emerged as a result of time itself i will try to contemplate this further thank you both oh 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 no oh no they forgot to bring an umbrella come on let's hurry before it rains harder E lui è triste Ma com'è triste Poverino, piccino, piccino Che bellino Non ho così m'emozione No raghi Oh no Il Fortressa di Meripede. È un buon lugar per me. Come il morto va a rispondere. C'è un buon lugar per me. Oh. C'è un buon lugar. C'è un buon del mondo. Allora... C'è un buon lugar. Allora... Ma che di nature è qualche cosa. E quello è lui che sta meglio Vedi ma me sta contento da non piove più Sto prendendo Non è resoluto Ok, ora sembra che la città ha dovuto il palino di questa ricchezza. That's not how you celebrate! Sì, ovviamente. Il mio tempo è completo per i prossimi giorni, ma... ...dia dovrei essere disponibile. Si sono state domande per i giorni intervini. E io avrei avvi... Oh, oh, oh. Yes. Ora, se mi perlattavo, devo andare al palaiso e trascendere un comunicare a pubblicare... ...dia spero che ci abbia rispettare la risposta di tutti. Ok, andiamo. No. Tanto ho tutta la missione. Dai, stai. Eccola. Andiamo in va. Eccola. Si è addormentata in piedi, ma che cazzo. Carole in my dreams just now. In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, I can't remember what our dreams were anymore. And I don't know why. I can sense your joy. Oh, I almost forgot. I promised a model for it. Of course. See you next time, monsieur. Hmm. See you next time. Non ho capito questa cosa. Ok, ciò che resta del passato. Abbiamo completato la missione. E io vi ringrazio di essere rimasti fin qui. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao ragazzi! Noi ci vediamo in un altro video.